Buongiorno a tutti e a tutte, sono un insur di Vicenza, sono fino al 2013 con la DL Copas quando uno stronzo pedrone di una magadena mi hanno buttato fuori, poi da DL Copas di Vicenza mi hanno portato lì al posto del mio lavoro, era il primo di 2013 noi come schiavi adesso ho cambiato tutto, grazie a DL Copas e soprattutto grazie a DL Copas di Vicenza o a Jackson e i suoi colleghi comunque sono contento che oggi con voi in questa sala appena di tante gente, di tanti magazzini la nostra forza è stare uniti e quindi sono di accordo con Gianni che data di sciopo generale deve essere una sola non ha senso da fare due sciopi a pochi giorni di distanza perché bisogna luttare in tanti e uniti contro Giazzec, contro mafia, delle cooperative e contro la schiavitù nostri nemici non sono profughi e persone senza lavoro ma cooperative e pedroni che vogliono stufarsi e farci spagare alla schiena bisogna luttare contro di loro per vivere meglio e avere salute per questo è importante comunicare a persone non solo a busta paga ma anche luttare per ambienti per bere acqua pulita e nostra salute grazie a tutti